ma quanto importante la sicurezza dentro di sé nello sport ne parliamo tra poco dopo la sigla come creare sicurezza in se stessi anche nello sport è il tema della puntata numero 7 del podcast del programma vincere con la mente un podcast appunto dedicato agli sportivi che vogliono aumentare le performance sportive imparando ad allenare anche la propria mente nella puntata di oggi parliamo proprio di sicurezza in particolar modo ti svelerò ti racconterò un piccolo segreto meglio un esercizio con il quale tu potrai ancorare dentro di te sicurezza e naturalmente affrontare tutte le gare sportive e magari anche qualche evento della vita con maggiore appunto sicurezza vedi più giochi o gareggi a livello professionistico è più importante saper gestire la sicurezza dentro di te anche se facendo il coach da tantissimi anni so che questa risorsa la capacità di gestire la sicurezza è molto ma molto importante anche al di fuori dello sport e nel momento in cui riesci a portare l'elemento sicurezza sul tireno di gioco o di gara o anche nella vita questo influenzerà la tua performance sportiva in positivo la pnl la programmazione neuro linguistica ti permette di ancorare la sicurezza dentro di te e di richiamarla a comando come se fosse magia per i prossimi minuti ti chiedo di fare questo esercizio con me di chiudere gli occhi e di seguire attentamente la mia voce punto numero uno chiudi gli occhi e rilassati per bene rilassa ogni parte del tuo corpo io dico sempre me stesso alle persone con le quali lavoro rilassa ogni muscolo del tuo corpo rilassa i muscoli del collo rilassa i muscoli della schiena rilassa i muscoli del gambe eccetera eccetera dico proprio a me stesso di rilassare do dei comandi specifici dicendo a me stesso di rilassarmi rilassare ogni tipo di muscolo punto numero due costruisci un momento una situazione di gioco di allenamento o altro in cui volesti essere più sicuro costruisci questa immagine vedendoti dentro nella stessa e ripeto devi vederti dentro l'immagine come se tu stessi guardando una tua vecchia foto oppure un filmino in pnl parleremo di stato dissociato punto numero tre vediti dentro l'immagine fare quella cosa con estrema sicurezza e con tranquillità vediti sicuro e capace capace e sicuro aumenta le sensazioni ingrandendo l'immagine e portandola più vicino a te rendila colorata più luminosa avvicinala ingrandiscila devi sapere che nella maggior parte delle persone le sensazioni positive collegate ad un'immagine aumentano all'ingrandirsi della stessa immagine dunque testa ingrandisci allarga rendi più luminosa avvicina l'immagine sperimenta verifica se le sensazioni collegate a ogni qual volta tu fai dei piccoli cambiamenti all'immagine stessa aumentano o diminuiscono punto numero quattro adesso porta le sensazioni al massimo livello e respira forte io dico sempre alle persone fai un bel respiro come se odorassi le stesse le stesse sensazioni e le emozioni collegate all'immagine vivile dentro di te attraverso tutti e cinque i sensi la vista, l'udito, l'olfatto le emozioni collegate all'immagine stessa il tatto, il gusto dell'immagine dunque vivi l'immagine in maniera molto ma molto forte come ho detto respirala punto numero cinque adesso fai una cosa molto particolare rimpicciolisci questa immagine e falla diventare un quadratino piccolo piccolo nero e portalo in basso a destra e tienilo lì punto numero sei adesso torna indietro nel tuo passato vai a cercare un momento particolare nel quale ti sei sentito veramente a disagio poco sicuro di te in totale balia se giochi a calcio dell'avversario oppure se stavi facendo un esercizio in totale balia come dire dell'esercizio stesso non riuscivi assolutamente a essere centrato come si usa a dire focalizzato sull'esercizio e dunque con scarsa stima e sicurezza dentro di te cercalo nel passato o anche nel recente passato se è accaduto poco tempo fa cerca dunque questo momento un momento particolare nel quale ti sei sentito poco sicuro e dove regnava l'insicurezza che ti ha fatto sbagliare gioco, passaggio, movimento qualsiasi cosa punto numero sette adesso crea un'immagine molto ma molto dettagliata di questo momento rendila più grande e luminosa possibile dove vedi le cose intorno a te attraverso i tuoi occhi ripeto devi vedere le cose intorno a te attraverso i tuoi occhi come se tu fossi lì per davvero in programmazione neolinguistica in questo caso parleremo di immagine associata ovvero vedi tutto intorno a te ma non puoi vedere te stesso dentro l'immagine punto numero otto adesso fai come se tu avessi una sorta di telecomando clicca sulla foto piccola e nera che avevi messo in basso a destra ti ricordi? quella che hai costruito volutamente in cui ti sei visto sicuro tranquillo forte determinato ed ingrandisci più che puoi l'immagine in maniera velocissima deve essere più rapido della luce superman qualcosa del genere più veloce clicca sull'immagine rendila il più luminosa possibile colorata grande copri completamente l'immagine in cui non eri sicuro fai in modo che questa immagine negativa si oscuri sparisca punto numero nove ogni volta che fai questo esercizio datti il comando pronunciando a voce alta la parola swish e cerca di essere velocissimo nel fare l'esercizio più sei veloce meglio è per il tuo cervello punto numero dieci ogni volta che termini l'esercizio ricorda di aprire e chiudere gli occhi velocissimamente bastano pochi secondi apri e chiudi gli occhi ripeti questo esercizio almeno cinque sei sette volte punto numero dodici adesso fai una verifica e cerca di ricostruire l'immagine negativa quella in cui eri insicuro che cosa accade? che cosa è successo? beh, se hai fatto bene l'esercizio hai sicuramente due possibilità possibilità numero uno l'immagine vecchia quella che ti creava difficoltà che ti metteva a disagio in cui eri insicuro non appare non ritorna non riesci a richiamarla dentro di te possibilità numero due richiami l'immagine la rivedi tanto per essere chiaro ma tutte le sensazioni collegate all'immagine stessa puff sono sbarite non ci sono più dunque quell'immagine non ti dà più assolutamente noia insomma in parole molto semplici se hai fatto bene l'esercizio hai sicuramente dei problemi a ricostruire l'immagine negativa e le sensazioni collegate all'immagine stessa in ogni caso nella peggiore dell'ipotesi l'immagine e le sensazioni collegate si sono affievolite ti danno meno noia quelle sensazioni adesso nei prossimi giorni direi almeno sette giorni ripeti l'esercizio almeno una volta al giorno sino ad eliminare del tutto l'immagine che ti dava noia o nella quale ti sentivi poco sicuro o addirittura insicuro questa tecnica di programmazione neurolinguistica si chiama SWISH oppure anche volgarmente chiamato in italiano lo schema della scozzata ed è molto ma molto potente per creare sicurezza o qualsiasi altra risorsa che tu desideri tieni conto che utilizzando questa tecnica potresti eliminare ogni tipo di immagine o di emozioni negative dentro di te sostituendola con qualcos'altro se non funziona alla prima significa che l'esercizio che hai fatto è stato fatto male in questo caso ti consiglio di ripetere tutti i passaggi con maggiore attenzione prova a fare l'esercizio e lasciami il tuo commento qui nel podcast oppure sui miei blog o anche su facebook se vuoi e se hai bisogno scrivimi info chiocciola giancarofornai.com ti risponderò sempre e personalmente io sono Giancarlo Fornai un coach un formatore motivazionale in rete sono conosciuto come il coach delle donne per la mia grande esperienza di lavoro proprio con l'universo femminile sono l'autore di come allenare la mente a vincere nello sport un libro che solo su Amazon ha ricevuto ben 33 recensioni a 5 stelle l'ho eletto e naturalmente vienimi a trovare sul blog che ho dedicato all'allenamento mentale come allenare la mente a vincere punto blogspot punto it oppure su facebook c'è un gruppo dedicato all'allenamento mentale il gruppo è chiuso ma ti basta soltanto chiedere l'iscrizione e sarai accettato l'ingresso è naturalmente gratuito e dentro vi trovi tantissime tantissime risorse interessanti in chiusura voglio soltanto ricordarti che la sigla di apertura è di Jason Show che distribuisce musica di qualità con licenza creative commons 3.0 il sito di jason e audionautics punto com grazie jason non mi resta altro che salutarti ringraziarti per aver ascoltato questo podcast e invitarti a praticare l'esercizio per i prossimi sette giorni almeno una volta al giorno e ricorda con questo tipo di esercizio puoi ancorare dentro di te ogni tipo di risorsa che ti serve un abbraccio